virtuosi e ad alcuni produttori e a quelle aziende e quegli operatori, e ce ne sono, ne abbiamo incontrate, che ci hanno incoraggiato, a tutti quelli che credono in questa battaglia e non hanno paura di innovare. Lancio quindi una piccola campagna per il vuoto a rendere, soprattutto nei prossimi tre mesi che il Governo dovrà mettere in piedi questa sperimentazione. Questo è un passo significativo, è stato già boicottato nelle scorse legislature e reso ora possibile anche grazie al nostro impegno. Facciamo sentire la nostra pressione al Governo affinché si metta in piedi il vuoto a rendere in maniera credibile, seria ed efficace. Magari proporremo anche un ordine del giorno a riguardo. Il Movimento 5 Stelle dunque marcherà stretto il Ministro. Potete starne certi affinché tutto questo venga fatto in maniera seria. Grazie. La ringrazio, onorevole Vigneroli. Diamo la parola all'onorevole Zardini per l'ultimo intervento. Prima salutiamo, però, studenti e insegnanti dell'Istituto Magistrale Isabella d'Este di Tivoli, in provincia di Roma, che assistono ai nostri lavori dalla Tribuna. Prego, onorevole Zardini. Sì, grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, sottosegretario. Io intervengo in fondo a questo dibattito e sinceramente condivido molte delle cose che sono state dette dai miei colleghi del Partito Democratico e dal relatore in particolare. Mi viene purtroppo voglia, diciamo, di rispondere ad alcune delle critiche che sono state fatte dai colleghi dei partiti di opposizione, perché credo che alla fine sia profondamente sbagliato non approfittare di un'occasione come questa, con un provvedimento che ha un grado di innovazione veramente molto importante e che se anche siamo consapevoli che non tutto è stato fatto rispetto a quanto ancora rimane da fare in tema di sostenibilità ambientale, penso che il passo avanti nella direzione giusta sia assolutamente significativo e fondamentale. Credo che anche, diciamo così, le ultime critiche che ho ascoltato necessitano di dire che molte delle misure che sono contenute nel collegato vengono anche da proposte a prima firma del Partito Democratico e questo è innegabile, significa che noi crediamo profondamente in questo testo, in questo provvedimento. Dico anche a qualche collega che adesso non vedo in aula, che non lo abbiamo visto neanche così frequentemente.